Carlo Conti, ci puoi dire qualcosa della nuova edizione, qualche novità? Beh, dunque, è talmente vincente il programma che non abbiamo intaccato più di tanto, però è venuta fuori un'ideina carina, quindi per soprattutto far sì che certi personaggi, che li abbiamo fatti tante volte, la insamina quante volte li abbiamo fatti, riproporla, abbiamo pensato di fare dei duetti, quindi abbiamo portato i concorrenti a 12, però le esibizioni saranno 11, perché vuol dire che in ogni puntata due di loro interpreteranno una coppia, un duetto, potrebbero essere due uomini e magari fanno due personaggi che hanno cantato insieme, oppure due donne che interpretano Giosquillo e Sabrina Salerno con Siamo Donne, oppure, come accadrà nella prima puntata, Gianni Nazaro e Rita Forte faranno Frank Sinatra e Elisa Minelli. Il successo di tale e quale in tre parole? Credo il lavoro, il lavoro che c'è dietro le quinte, l'impegno vero, l'impegno che c'è da parte dei 12 protagonisti, e l'impegno e l'amore con il quale tutta la squadra Rai lavora, truccatori, parrucchieri e costumisti, che lavorano dietro le quinte, lo fanno con il cuore ed è un grande impegno. E poi una giuria fortissima che ormai è elemento fondamentale del programma. Un personaggio che se tu fossi al loro posto non vorresti mai fare? Tutti? Nessuno, io non farei nessuno. Nessuno, mi sono divertito nell'ultima puntata dell'altrano di fare i tre tenori con Fieraccioni e con Cirilli proprio per divertirmi, ma non era evidentemente un'imitazione precisa di qualcuno. Però ci siamo divertiti molto. Ciao amici di Fan Week. Ciao amici. Grazie a tutti.